Qual è la prima strategia che metti in campo, long o short? La prima strategia è una strategia long, quindi una carta verde. Una carta verde che ha come sottostante cosa? Il titolo Amazon e il motivo adesso te lo spiego, in realtà il discorso della rotazione settoriale che è stata fatta e secondo me se si ragiona in termini di indici è corretto e ci può stare perché all'interno del Nasdaq ci sono veramente dei titoli che sono saliti tantissimo, vale per diverse realtà, vale un po' di meno secondo me per quelle realtà che sono estremamente performanti. Io devo dire la verità, non è un segreto che io sia un sostenitore di Amazon ma anche di altre realtà tecnologiche molto molto capitalizzate, cosiddetti Fang in particolare e di conseguenza sul titolo Amazon secondo me il fatto che sia tornato in prossimità dei 3.000 dollari per azione secondo me è un'opportunità perché l'azienda non sta facendo come detto più volte soltanto la distribuzione dei pacchi e dei servizi ma in realtà si sta sviluppando con quella che è Amazon Prime, con quello che sono i discorsi di AWS che è Amazon Web Services, tutti quelli che sono i servizi in abbonamento, cioè Amazon oggi è un'azienda globale che il ritracciamento che ha subito nelle ultime settimane, negli ultimi mesi secondo me rappresenta un'ottima opportunità quindi sotto i 3.000 dollari io non penso sia sbagliato mettere in portafoglio il titolo. Faccio un cappello che vale per tutte le strategie che ho proposto oggi che è importante, sono operazioni di trading quindi con stop e target abbastanza vicini proprio per movimentare un pochettino quella che è la sfida. Ovviamente su Amazon il discorso secondo me visto che tra l'altro BenPay offre dei prodotti open end quindi dei prodotti senza scadenza può avere senso mantenerlo ben oltre quello che è il target che io ho proposto. Ecco allora dacci i livelli. Allora il livello d'ingresso è 2.995, il nostro stop loss lo posizioniamo a 2.905 euro e il target a 3.095, come detto appunto secondo me Amazon potrebbe crescere ben di più rispetto a tali livelli ma come ti dicevo insomma abbiamo necessità che questi trade anche in virtù del fatto che c'è la leva vadano o a target o in stop.